Non siamo al cospetto di una diavoleria tecnica, ma siamo al cospetto di un progetto di prevenzione che ha tutta una serie di aspetti interessanti per la popolazione, in particolare, volendolo rappresentare in modo grafico, è un po' tutto un insieme di ingranaggi, di attività correlate che possono essere portati avanti gradualmente dal lente. In realtà abbiamo attivato l'ingranaggio arancione, che è l'ingranaggio che prevede l'inserimento di questi strumenti tecnici che consentono fondamentalmente di abbattere notevolmente la velocità. Tutta una serie di altre attività sono molto importanti e correlate al progetto. Sottolineo fra gli altri l'ingranaggio verde, quello dell'educazione, perché logicamente non si può pensare di risolvere il problema dei comportamenti sbagliati su strada, che poi lo sappiamo sono circa il 90% della causa degli incidenti, non si possono risolvere solamente con il controllo. Quindi nell'ambito del progetto è possibile far partire anche una serie di attività che sono di tipo educativo, di tipo legate alla sensibilizzazione. Questo dei comuni è un po' una corsa vendica. Quando parliamo di controllo partiamo un po' da sotto zero, nel senso che purtroppo in Italia c'è un po' una cultura deviata per cui il controllo è qualcosa di negativo, è qualcosa di brutto, è qualcosa di invasivo nei confronti dell'utente che paradossalmente diventa vittima del controllo stesso. In realtà la vittima sulla strada, purtroppo lo sappiamo, sono le persone che perdono la vita, che perdono la mobilità, che finiscono su una serie a rotelle. Per cui è un po' sbagliata la mentalità che si è creata che la vittima del traffico è l'utente multato. L'utente multato in molti casi, abbiamo visto in ultimi anni, c'è stato un eccesso magari, o comunque un cattivo utilizzo dello strumento sanzionatorio, forse eccessivo in alcuni casi. Però questo non deve cambiare le logiche e le regole, per cui fondamentalmente la logica è che la vittima sulla strada è colui che è vittima di incidente, il prepotente non è evidentemente la forza dell'ordine, il vice che fa la multa, ma evidentemente è chi si comporta male su strada. Questa dovrebbe essere la logica giusta. Poi è chiaro che gli eccessi anche da parte dei comuni sono tutti censurabili. Con questo progetto si vuole arrivare a portare i comuni, vorrei quasi dire a educare i comuni, a fare un controllo assolutamente non vessatorio, ma virtuoso, che effettivamente abbia un impatto positivo, forte, nei comportamenti errati alla guida e che quindi raggiunga lo scopo di aumentare la sicurezza su strada. Chiaro che poi i cittadini devono far loro parte, cioè devono riuscire a capire qual è la razza del sistema e riuscire anche comunque alla fine a rispettare i limiti. Vedete l'ingranaggio azzurro che parla di comunicazione, quindi in questo momento parliamo con i media, è fondamentale anche la comunicazione perché proprio la corretta comunicazione dei sistemi deve portare poi a una maggiore comprensione da parte degli utenti e una maggiore accettazione fondamentalmente. Il controllo non è fatto contro il cittadino, è fatto per il cittadino, per la sua sicurezza. I morti sulle strade, soprattutto nell'ambito pedonale, che sono in costante aumento di anno con anno, non sono numeri inventati o compatti per aria, sono una realtà di tutti i giorni nelle nostre città. Per cui riuscire in modo concreto ad abbattere questi dati di pericosità vuol dire veramente molto. Un esempio di controllo che negli ultimi anni è stato estremamente efficace, mi riferisco al tutor sulle autostrade. L'avvento del tutor ha dimezzato di fatto la mortalità sulle autostrade e quindi è un esempio che in qualche modo sarebbe bello poter replicare anche in ambito urbano, con delle difficoltà e dei limiti molto marcati. Perché? Perché prima di tutto non c'è per l'ambito urbano una tecnologia similare al tutor, non esistono tecnologie del genere. E anche la normativa non viene incontro perché non consente fondamentalmente l'utilizzo in ambito urbano di tecnologie completamente automatiche, cioè senza la presenza dell'operatore di polizia come avviene per esempio invece sulle autostrade. La caratteristica del tutor è molto semplice, in pratica copre tutto il tratto stradale che un utente della strada percorre e per tutte le 24 ore. Questa percezione continua del controllo, perché è un controllo che c'è, ripeto, H24 su tutto il tratto, fa sì che l'utente adegui il suo atteggiamento di guida ai limiti imposti. Nell'ambito urbano, questo lo dicevo prima, è molto difficile andare a replicarlo, in realtà sui tratti urbani, i dati che avremo sui brei sono un po' diversi, ma mediamente il 70% delle nostre rilevazioni statistiche sull'ambito urbano parlano di persone che superano i limiti, quindi solo un 30% mediamente rispetto a questi limiti. Il tipo di controllo che viene fatto in modo classico con l'autovello sfamigerato che tutti conosciamo, in realtà oggi è molto ben preavvisato, c'è un cartello che lo preavvisa, quindi deve essere tutto in qualche modo molto visibile, l'effetto vedete nella grafica, c'è un rallentamento molto marcato in quel punto, passato il pericolo l'utente tende a ripartire e scappare via. Questi sono alcuni dei dati che noi rileviamo statisticamente, cioè davanti alla postazione ben visibile il 4-5% solamente infrange, appena passata la postazione torna a andare come andava prima, quindi circa il 70% supera di nuovo i limiti. Per cui è un'azione del controllo fatto in modo classico, cioè se si cerca di limitare la velocità con il sistema di controllo classico, ahimè si ottiene ben poco. Quando la pattuglia smonta si torna ai dati di prima praticamente, per cui non c'è un gran rispetto del limite. L'idea è stata quella in pratica, avuta peraltro da un comandante di polizia, quindi è uno strumento non nato nell'ambito di ditte o comunque pensato per fare soldi, perché normalmente anche la preclusione che si ha è che se tutto viene dalle ditte sia in qualche modo negativo perché portò al business. Questo è un sistema inventato nell'ambito della polizia municipale, altro non è che un metodo, un sistema per rendere maggiormente visibile la postazione, per cui la postazione di controllo, l'apparecchiatura di controllo, non si monta più all'interno di una macchina come si può fare attualmente o sul trepiede, ma si monta all'interno di un box ad alta visibilità. Questo fa sì che in pratica col box ad alta visibilità ci sia un grosso vantaggio, cioè se il vigile, questo vedete rappresentato qui alla mia destra, è un vigile, non può stare evidentemente H24 su strada controllando H24, non ci può stare lui, ma ci può stare tranquillamente un box che sia pieno o che sia voto non ha importanza, può essere riempito quando l'operatore di polizia è in servizio, quando è in servizio può essere anche vuoto, ma l'utente della strada di fatto non ha la certezza che questo strumento sia pieno o sia vuoto. Non è come qualcuno pensa un inganno nei confronti dell'utente della strada, perché la postazione di controllo, anche il tutto stessa, non è mai sempre attiva, però l'utente percepisce che sia attiva H24. È questa percezione che rende il controllo efficace in termini preventivi, non è la multa in sé, ma è la sensazione che possa esserci la presenza del controllo. Questo meccanismo che potremmo effettivamente non a caso definire psicologico è assolutamente efficace nell'abbattere effettivamente i comportamenti sbagliati. Questo in qualche modo è il meccanismo che fa sì che il controllo duri tutte le 24 ore. In realtà il controllo può essere, come nella logica del tutto, anche spalmato sul territorio, nel senso che ripetendo, come avete visto in effetti fare qui a Ivrea, questo posizionamento di queste cabine in più punti, ecco che di fatto replicando i possibili controlli in più punti si ha proprio un effetto tutto, per cui su tutta la strada viene avvettato il limite stesso. Questi sono alcuni dati che io volevo fornire su Ivrea, visto che abbiamo fatto una rilevazione. Queste sono le statistiche relative alla città di Ivrea, le abbiamo fatto sulla circonvalazione, dove peraltro non c'era una velocità di partenza molto elevata, probabilmente anche perché è al punto molto centrale. Questi sono i dati rilevati, vedete la parte sopra si riferisce alla situazione anti-speed check, mentre la parte sotto si riferisce alla situazione post. Per cui si è passati da 42 all'ora di media a 38 di media con un'incidenza delle infrazioni che prima dell'11% adesso è del 3%. Quindi c'è un calo percentuale dell'infrazione del 70% e rotti. Ripeto, partivamo da un campione non molto alto in termini di infrazione, però vedete che le velocità medie sono comunque calate, le infrazioni sono calate del 70%, si sono azzerate completamente le infrazioni da ritiro di patente, cioè quelle sopra i 90 all'ora. Questo è su un campione di circa 120.000 passaggi in andata e 100.000 in ritorno. Di notte il calo è decisamente più marcato perché si passa da 47 km orari di media, lo vedete in questo punto in alto a sinistra, si è passati a 39 di media. Quindi da 30% che infrangeva si è passati a un 5%. Il dato rosso è il dato verde, vedete, cioè l'infrazione oltre il limite, prima era un 30%, adesso sono il 5%. Vedete che tra i 61 e i 90 all'ora, che comunque comincia a essere un tipo di infrazione abbastanza pericolosa in centro urbano sicuramente, si è passati da un 185 a 93 unità. Per cui il calo complessivo è assoluto di 7,88 velocità media, 82 infrazioni e alzeramento delle infrazioni gravi. Può essere interessante vedere anche il dato delle infrazioni maggiori, quindi dei passaggi più veloci registrati. Questi sono i 10 passaggi più veloci registrati prima e dopo nelle due direzioni. Per cui nella direzione verso Corso Garibaldi, prima delle installazioni, vedete che nella parte sinistra dello schermo, la velocità massima era 104, la velocità media di queste 10 velocità rilevate era 96 all'ora. Successivamente, quindi il secondo specchietto, questo qui, vedete che la media delle punti di velocità è passata a 81 all'ora, quindi in pratica meno 15 km di velocità media nelle punte massime. Abbastanza simile, nell'altra direzione è un pochino più lento, l'andamento evidentemente, si è passati da una punta delle velocità massime medie di 88 all'ora a 74. Quindi comunque è indubbio che un impatto forte già il sistema l'abbia avuto. Sottolineo, questo impatto c'è stato, corregitemi se sbaglio, senza fare ancora sanzioni, non avete ancora attivato il sistema. La sensazione del controllo fatta con questo sistema è molto forte, questi sono i dati complessivi che noi abbiamo raccolto in giro per l'Italia, dove abbiamo installato questo sistema, su circa 150 comuni, quindi non propriamente pochi. Mediamente c'è un calo delle infrazioni del 70%, delle infrazioni gravi del 78%, della velocità di 11 km orari e della velocità massima di 17 km orari. Quindi sono cali di tutto rispetto. Peraltro questi risultati sono poi non solo potenzialmente, ma nella concretezza, forieri poi anche di risultati pratici in termini di sicurezza. Questo sistema è nato in provincia di Macerata, è stato inventato in un comune in provincia di Macerata e quindi in quella provincia è più utilizzato ormai da 2008 e quindi posso già portare dei dati storici non solo in termini di diminuzione statistica della velocità, ma anche di impatto reale sulla diminuzione poi della pericolazione delle strade. Poi è logico che se calano la velocità calano gli incidenti, la mortalità, però non è così scontato. Questi sono alcuni dei comuni che nella provincia di Macerata utilizzano questo sistema già dal 2008 e questa è la situazione che c'era Macerata precedentemente alla partenza del progetto, per cui nel 2007 Macerata aveva purtroppo contabilizzato il numero maggiore di morti nell'ambito della regione Marche con un distacco notevole rispetto alle altre province. Avete 48 incidenti mortali nella provincia di Macerata. Nel 2008 è partito questo progetto e quindi dopo una cura abbastanza forte perché nelle altre province il sistema inizialmente non era stato proposto. Vedete che c'è stato un calo in due anni del 48% della mortalità. Per cui si è passati da 48-25% e oggi Macerata è la provincia con la più bassa mortalità nelle Marche. Poi per carità il caso ha il suo impatto in tutte le cose però quello che voglio rimarcare è questo dato che per i tecnici è molto significativo perché testimonia come l'incidentalità nella provincia di Macerata non sia calata molto perché è calata solo dell'11% e questo è un dato incontrovertibile cioè quando cala poco l'incidentalità e molto la mortalità è evidente perché l'incidente avviene a una velocità minore cioè l'incidente avviene comunque ma avviene con conseguenze molto meno gravi ed è strutturalmente lo stesso non ce l'ho qui come dato ma è lo stesso dato che c'è nel tutor cioè il tutor ha portato a un abbattimento di circa 12% di incidentalità ma di oltre il 40% di mortalità e questa è tipicamente la situazione in cui ripeto si ha la 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 minore pericosità dell'incidente perché la velocità è decisamente calata quindi questa è la razza del sistema cioè arrivare ad abbattere la velocità prima di sanzionare cioè non arrivarci attraverso una serie importante di sanzioni per cui la gente alla fine si adegua per sfinimento per non prendere sanzioni alla fine si adegua qui l'adeguamento è stato prima quindi non è un passaggio da poco questo perché sono tutte sanzioni evidentemente che l'ente non ha incassato e non incasserà e non ha nessuna intenzione evidentemente di incassare presumo che l'ente sarebbe contentissimo se questi dati continuassero senza dover fare neanche una sanzione in realtà per mantenere inalterati questi dati nel tempo bisognerà qualche volta evidentemente anche intervenire altrimenti il sistema non risulterebbe poi credibile agli occhi dei cittadini non sarebbe neanche serio nei confronti di chi per l'altro rispetta quindi ecco questa è la razza del sistema arrivare ad abbattere i comportamenti pericolosi senza necessariamente fare sanzioni e rimandare le sanzioni solamente in una fase successiva quando si rendessero necessari per scoraggiare i comportamenti comunque reiterati in questo senso